Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monusport 07 Siamo qui con i pronostici della Formula 1 2021 La mia prediction della classifica finale al termine delle 23 So 23 le gare che si percorreranno nel 2021 Ragazzi ricordo che sono pareri personali Speriamo non si vadano ad avverare Poi vedrete anche perché Però insomma ragazzi noi non perdiamoci un ciacchiere Ringrazio il buon Antonio per le clip E noi partiamo subito col video Vamo ragazzi Credo che la Williams farà dei passi avanti Ma non tali da permettere a Latifi di evitare l'ultima posizione Un pilota comunque abbastanza sottovalutato Purtroppo guidano a Williams quindi non possiamo giudicarla a pieno Credo che potrebbe fare qualche punto Quindi tutti i piloti andranno a punti Ma non si scollerà di dorso l'ultima posizione Qualche punto lo farà anche Nikita Mazepin Che comunque anche lui è un pilota dall'indubbio talento Secondo me potrebbe anche avere le carte in regola Per battere un certo Mick Schumacher Che metto davanti a lui Quindi Mick Schumacher diciottesimo ragazzi Secondo me farà leggermente meglio di Mazepin Alla fine della fiera potrebbe anche darsi che Mazepin abbia fatto meglio di lui Ma se andiamo a vedere solo i punti Che alla fine sono quelli che contano Mick potrebbe farne più di Nikita Mazepin Secondo me sarà una lotta molto molto equilibrata Non è che prevalerà uno dei due Quindi Mick Schumacher lo mette diciottesimo E Nikita Mazepin diciannovesimo Complici anche l'auto che avranno Farà ottimi passi avanti anche l'Alfa Romeo Più della scuderia americana secondo me Quindi grandi passi avanti farà l'Alfa Romeo Ma Kimi Raikkonen non tanto Perché secondo me questa sarà l'ultima stagione di Kimi Raikkonen Quindi si concentreranno di più su Antonio Giovinazzi Che se non verrà chiamato dalla Ferrari Resterà in Alfa Romeo E quindi si concentreranno più magari Lo sviluppo intorno a Giovinazzi Che è uno che si ritira Quindi Raikkonen alla fine sarà diciassettesimo Nonostante potrebbe portare esperienza Sedicesimo il suo primo anno Zunonda Secondo me è un pilota che potrebbe anche battere gas lì Questo eh non lo metto in dubbio Però insomma qualcosa mi dice che Zunonda Non coglierà troppi punti alla fine Quindi alla fine lo metto sedicesimo Quindicesimo invece è Georg Russell Quest'anno la Williams farà grandi passi avanti Ma soprattutto sarà l'anno definitivo Per mettere davanti a tutti Il talento di Georg Russell Quindi Bottas è chiamato obbligatoriamente a fare bene ragazzi Perché quest'anno sarà Probabilmente l'anno della consacrazione definitiva Di un pilota forte Forte come Georg Russell Il quindicesimo con una Williams Secondo me è a fine anno Quattordicesimo Antonio Giovinazzi Dicevo che secondo me Giovinazzi Se vuole cercare almeno di impenserire la Ferrari Di entrare nei pensieri della scuotina di Maranello Deve cercare di fare veramente un ottimo anno Per cui quest'anno che secondo me La vettura sarà incentrata più su di lui Rispetto allo scorso anno Potrebbe cogliere a casa qualche punto in più Sempre rispetto allo scorso anno E finire il campionato in quattordicesimo posizione Ovvero tre posizioni in più Rispetto all'ultimo Tredicesimo per Gasly Farà un leggero passo indietro Secondo me l'Alfa Tauri Nonostante l'ultimo anno Ha veramente fatto bene 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 Non credo che Gasly Possa estrarre fuori il coniglio dal cilindro Come ha fatto quest'anno Dove ha fatto veramente delle gare molto molto buone Dodicesimo Fernando Alonso Passo indietro secondo me farà anche la Alpine Rispetto allo scorso anno Che comunque se pensate con le proprie piloti In quinta e dodicesima posizione Fernando Alonso secondo me Non riuscirà a garantire all'Alpine L'esperienza di cui questa scuderia ha bisogno Non credo si replicherà Non lo so è una sensazione mia Davanti a lui ci arriverà la scuderia Di Stroll Lawrence Stroll Con il figlio Lanzi che farà undicesimo posto Così come quest'anno peraltro ragazzi Quest'anno ha avuto veramente un bolide Una Mercedes B e ha fatto undicesimo Non credo che miglioreranno nel 2021 Le cose e quindi alla fine Nonostante comunque un pochettino di talento Dobbiamo riconoscere che Lanzi ce l'abbia Farà undicesima posizione perché ci sono delle gare Dove veramente sembra che guidino a Williams Ancora lui che peraltro in Williams c'è pure stato Decimo invece Esteban Ocon A lui manca un po' di costanza E si è visto nell'arco dell'anno Però più che battagliare per la zona punti Non lo vedo quindi farà male in generale l'Alpine Ora andiamo ai primi nove Che saranno sicuramente quelli che combatteranno In quarto posto Innanzitutto partiamo da Norris Nono secondo me pilota di indubbio talento Ma ogni anno si trova un compagnolo di squadra Più forte di lui Quindi secondo me alla fine della fiera Cioè scusate se ripeto sempre sta cosa Alla fine della fiera faranno una posizione Davanti a lui arriverà il suo amico Ed ex compagnolo di squadra Carlos Sainz Che al primo anno in Ferrari Dovrà essere il protagonista In un periodo sicuramente di adattamento Perché comunque una scuderia Una macchina difficile da guidare La Ferrari Specie per la configurazione che avrà Avrà qualche difficoltà all'inizio Però secondo me alla fine potrebbe anche fare meglio Di Leclerc Specie nel finale di stagione Però tutto sommato lo vedo ottavo Leggermente indietro rispetto all'ex All'ex pilota Ferrari Sebastian Vettel Che si rilancerà Secondo me con l'Aston Martin Non farà benissimo Però secondo me Qualche ottima posizione La potrebbe strappare Perché no anche qualche podio Perché alla fine Quando uno tra Hamilton Botta Severstappen Ha problemi Tutti gli altri sono in agguato Per ottenere il podio Quindi settimo Sebastian Vettel Gli auguro di ottenere questa posizione Magari non troppo spesso davanti le Ferrari Sesto Charles Leclerc Ragazzi Charles Leclerc Ha terminato ottavo lo scorso anno Se già con un catorcio E' riuscito ad ottenere due body E per tre volte il quarto posto E quindi Molte volte si è piazzato Quasi a ridosso Di Mercedes E della Red Bull Di Verstappen Quindi Il primo degli ultimi Diciamo così Quest'anno Con la macchina Se in teoria dovrebbe essere La macchina migliorata Potrebbe fare ancora meglio Quindi sesto posto Davanti a lui due che non si possono battere Ovvero Sergio Perez Che con una Red Bull Secondo me farà leggermente meglio Non molto meglio Ma leggermente meglio Rispetto a quanto bene avevano fatto Albon e Gasly Cioè bene Male avevano fatto Albon e Gasly Poi c'è amato Anche se la macchina è incentrata su Verstappen Magari sono stati bruciati troppo Troppo presto Sergio Perez Comunque alla fine sarà quinto Comunque farà meglio di Gasly E di Albon Quarto invece Daniel Ricciardo Che la McLaren La vede una macchina Perfetta per lui Io lo vedrò perfetto In ogni gara Ricciardo Chiaramente non penso Possa impensierire Le Mercedes E le Però insomma È un grandissimo pilota Se non mi sbaglio Ha fatto anche 31 anni Ha fatto 31 podi In carriera Quindi insomma ragazzi Non stiamo parlando Di uno degli ultimi arrivati Però di Daniel Ricciardo Che secondo me farà Una stagione veramente De Cristo E riuscirà a battere Anche Sergio Perez Passando ai primi tre Io credo che Bottas Questa sarà il suo anno Definitivamente Dalla De Baglio Perché Bottas O quest'anno Non dico che batte Hamilton Ma fa un anno della Madonna Dove fino alla fine Rimane in lotta con Lewis Hamilton O avrà l'anno della De Baglio E sarà promosso George Russell Io penso che sarà promosso George Russell La sua discapito Non escludo neanche Un ritiro di Hamilton Però secondo me Bottas Finirà terzo Chi darà veramente Filo da torcerà a Hamilton È Verstappen Sinceramente ragazzi Potrebbe anche essere Bottas Io non lo escludo Completamente Che Bottas Non possa dare Filo da torcerà a Hamilton Dico solo che Hamilton Secondo me Non vincerà Passeggiando il suo mondiale Lo vincerà Ma non passeggiando Come ha fatto Gli ultimi due Perché ragazzi 2019-2020 Hamilton si era praticamente Passeggiati Se non le prime sei gare Del 2019 Appunto Ma se li è praticamente Passeggiati Verstappen 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 Che secondo me Con la costanza Che troverà il motore Honda quest'anno Perché ragazzi Non è possibile Che ogni anno La Red Bull 5-6 ritiri Per il motore Con quella costanza Verstappen Con quei punti in più Che poteva ottenere Riuscirà non solo A battere Bottas Ma anche Di impensierire Lewis Hamilton Almeno secondo me Che magari Se ottenesse Qualche effettina Di culo in meno Potrebbe essere Impensierito di più Dall'olandese Passando alle scuderie Io penso che Decima Non arriverà La Williams Ma arriverà La Haas Ragazzi Avete visto Commesso Quindicesimo Russell Russell Che sarà Mattatore Della scuderia Inglese Che sicuramente Non tornerà A livello di un tempo Però la nona posizione Riuscirà ad averla Tra l'altro Sembra la sfiga Delle livree Perché Williams E Haas Quest'anno Hanno fatto Veramente schifo Hanno praticamente Entrambe messo La livree A dei dentifrici Però secondo me Alla fin fine La Williams Riuscirà ad arrivare Davanti la Haas Anche se di poco Però secondo me Riuscirà ad arrivare Davanti alla Haas Che in teoria Dovrebbe confermare Il proprio Pazzamento Ovvero l'ottavo posto L'Alfa Romeo Io penso che La scuderia italiana Farà passi Molto in avanti Rispetto Lo scorso anno Però penso che Alla fine L'Alfa Tauri Non riuscirà a batterla Tramite magari L'ausilio dei suoi piloti Però insomma L'Alfa Tauri Farà un passo indietro È vero che Se pensiamo All'Alfa Romeo Ha fatto 8 punti Se pensiamo All'Alfa Tauri Ne ha fatti 107 Quindi Sembrerebbe esserci Un avviso tra i due Io credo che Alla fine L'Alfa Romeo Potrebbe ottenere Una quarantina di punti In generale Ma non di più Mentre l'Alfa Tauri Non otterrà i 107 punti Ma comunque Non otterrà più di 40 Quindi alla fine Settima Passando magari Alla lotta per il terzo posto Tra Ferrari Aston Martin Alpine E McLaren Io penso che L'Alpine arriverà a sesta Qui vado a giudicare Più piloti che la macchina La macchina Secondo me Farà passi avanti Ma gli altri faranno Leggeri Più passi avanti Rispetto a loro Insomma Leggermente più grandi Rispetto Alla scuderia francese Che la Renault E ora è diventata L'Alpine Non hanno più Un privato come Ricciardo Lo sostituiscono Con Fernando Alonso Ma secondo me Questa si sarà Arriverata La scelta sbagliata Se dovevi sostituire Uno come Ricciardo Si poteva sostituire Solamente con il ritorno Di Hülkenberg Con tutto rispetto Per Alonso Che ha fatto la storia Però ormai In questa Formula 1 Ha già detto la sua A mio modo di vedere Quinta posizione Come il numero Di Sebastian Vettel Per la Aston Martin Che farà leggermente fatica Forse Per un periodo Di adattamento Di Sebastian Vettel Con l'inesperienza Che ha Lance Stroll Che non so quanto durerà Nonostante il suo Quinto anno in Formula 1 Secondo me Alla fine Non andranno oltre Il quinto posto Nonostante avranno Disposizione Un'ottima auto Una Mercedes Vettel Quarta la Ferrari Passi in avanti Per la Ferrari Che però Non riuscirà a confermare Cioè che non riuscirà A soddisfare L'aspettativa del terzo posto Verrà abbattuta Dalla McLaren Perché è una coppia piloti Veramente devastante La McLaren Ricciardo e Norris Ma soprattutto Ricciardo Ragazzi E anche la Ferrari La coppia piloti Non è male Ma Ricciardo La McLaren Io lo vedo veramente bene Non dico che farà Un po' di ogni gara Ma ogni gara Tra i primi sei Ci arriva fisso Fino alla fine dell'anno Tralasciando i ritiri Se ci mettiamo Che il secondo piloto È un ottimo come è Norris Per me Specialmente se la McLaren Poi avrà il motore Mercedes Perché avrà il motore Mercedes Quindi avrà fatto Indubbiamente Un passo avanti Rispetto allo scorso anno Secondo me Terminerà davanti la Ferrari Non dico ogni gara Però secondo me Sarà molto molto difficile Per la Ferrari Battere la McLaren Aston Martin E Alpine Si possono battere La McLaren sarà molto molto dura La Red Bull Io credo che Perez Farà la metà dei punti di Verstappen E già è tanto ragazzi Perché Albon e Gasilino Non hanno fatto neanche La metà dei punti di Verstappen Io credo che Perez Faccia la metà Fino alla fine dell'anno Verstappen avrà fatto Credo 300 punti E se andiamo a vedere Invece Perez Non ne farà più di 160 Comunque con Gli altri scudriere Non le aveva raggiunte Perché alla fine Albon e Gasilino Hanno fatto lo stesso in Red Bull Di quanto facevano In Alfa Tata Per il Toro Rosso Prima arriverà la Mercedes Proprio per la Coppia Pilotti Io credo che Bottas Comunque 100 punti A Perez E li dia senza dubbio E quindi insomma Non ci sono dubbi Che vincerà L'ottavo titolo consecutivo Alla Mercedes Dovrebbero avere Una sfiga disumana Per arrivare Dietro la Red Bull Ma non penso proprio Detto questo ragazzi Questa era la mia Prediction I miei pronosti Scrivimi anche Nei direct di Instagram Se hai visto il video E ti lascio like A tutti i post Ragazzi Voi basta che mi iscrivete In direct E vi lascio like A tutti i post Lo faccio praticamente sempre Tanto a meno che Siete ragazzi Vabbè ve lo metto lo stesso Però tanto La mia ragazza Non penso sia tanto gelosa Lasciate mi raccomando Un like Per supportarmi E farvi capire Che questi video vi piacciono Io vi mando Un grosso abbraccio E fino alla fine Forza Ferrari Vamo ragazzi